Domani, dopo 15 giorni, torno in Italia. Siamo nella parte antica di Amman, la cittadella, detta anche Jabah al-Kar, almeno così ci ha detto il tassista. Proviamo la pizza da Amman. C'è una barbecue sauce. Adesso provo a riconoscere un po' di libri in arabo. Riconoscibilissimo il piccolo principe, il nome della rosa, e a occhio e croce dico che questo è Oliver Twist. Il diario di una schiappa, un brown inferno. Questo dovrebbe essere Kafka metamorfosi. Questo dovrebbe essere il mondo di Sophie Ligard. Mille splendidi soli e Lego rispose. Ultima sera qui a Amman. Ciao! 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 Ehi, ciao! Grazie a tutti.